Benvenuti alla Ficca Cosa! Un torneo di Pokémon per piccoli Pokémon desiderosi di crescere e di vincere! E in lancia piante si dà all'autodistruzione una potente esplodione! È sparito sotto me e ora... Wow! Battuto con un colpo solo! Che succede, allenatore? Si persaglia! Ed ecco il secondo avversario! Lo sfidante dovrà mantenere la calma se vuole vincere! Ehi! Sta crollando! Benissimo! Livello completato! Eccoci giunti alla lotta contro Erika, capo palestra di Antropoli! Preoccupante la cosa! È crollato! Riuscirà il nostro eroe a non avvelenarsi in sangue? Il prossimo è Bruno! E ora... L'ultima! La più grande! La vera battaglia finale contro il rivale! Il pubblico è in delirio! Siamo ormai al dunque! Quinto no! Congratulazioni! Ecco a voi il nuovo campione! Wow! Per porcorno! Venetevi pronti? Ma si scioglie o no questo ghiaccio? Oh! Non si muove ancora! Ehi, Morse! Occhio per occhio! Yaha! Cagci in volo! Ma cosa serve fare splash splash? Wow! Battuto con un colpo solo! Assistiamo ora al combattimento libero! I futuri campioni hanno iniziato la loro carriera di allenatori! Stecco a voi... Charmeleon! Stecco a voi... Platua! Stecco a voi... Arcanine! Stecco a voi... Magnelite! Stecco a voi... Mew! Stecco a voi... Jigglypuff! Stecco a voi... Dragonite! Stecco a voi... Skyter! Stecco a voi... Cabon! Stecco a voi... Watata! Stecco a voi... Omanite! Stecco a voi... Caterpie! Stecco a voi... Sidak! Stecco a voi... Jenga!